Ma il punto focale? Amati così come sei, perché sei bellissima così come sei. Non fa niente che hai cellulite o sei grassa o magari troppo magra. Il tuo problema poi dopo lo risolvi, ma ama te stessa te stesso, che i problemi poi dopo si risolvono. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Socialite, luce nella società. Grazie per aver scelto i nostri contenuti e quest'oggi come promesso appunto abbiamo la seconda parte dell'esperienza di vita appunto di Miecia. Ciao Miecia. Ciao. Ancora una volta, grazie per essere qui. Grazie a voi. Noi ci siamo lasciati la prima parte in cui tu hai cercennato questo switch, questo tick che sei riuscito a fare comunque nell'approccio comunque della tua vita. Ci hai parlato dei primi mesi in cui hai perso comunque i capelli che non ti riusciteva accettare e fatica anche a uscire fuori casa e poi c'è stato appunto questo cambiamento. Ci hai accennato un po' i primi passi, però continuiamo appunto questo discorso, su questo switch appunto. Sì, come dicevo prima, il lavoro su me stessa da sola mi rendo conto che è molto faticoso. Adesso mi rendo conto. Ma lì inconsciamente, non so il perché, di instinto ho cominciato per prima a guardarmi nello specchio io e parlarmi a voce alta usando il mio proprio nome, parlando proprio direttamente nello specchio dicendo Miecia sei bella così come sei. Non ti preoccupare delle altre persone, Miecia ti amo così come sei e ti posso assicurare che questa cosa è molto profonda perché noi non ci pensiamo, ma quando tu pensi le cose e le pronunci a voce alta, lo senti con le tue orecchie, soprattutto tu che ti guardi negli occhi il tuo nome, ti arriva in un altro modo. E c'hai questa vocina dentro tra buono e cattivo che ti dice ma che te ne stai raccontando eccetera, c'è questa vocina che ti dice ma smettila, ti prendi in giro eccetera eccetera. Io invece l'ho soffocata questa voce, mi sono concentrata su me stessa, di instinto, però era la prima cosa che mi ha aiutato molto ad accettarmi me stessa, quello sì. Poi la seconda cosa, provare, provare senza bandana anche per cinque minuti perché non è che tu decidi ok adesso sto bene allora tolgo tutto e vado, no non è così. Cominci a fare esperimenti su te stesso e quindi quando uscivo avevo caldo, tolievo quel capello, quella bandana, quel fazzoletto che ce l'avevo e vedevo reazioni di gente. Magari se ero in un umore meglio io sopportavo meglio, ma magari era una giornata storta e vedevo già le persone che ti guardavano, che ti giudicavano solo guardando, magari dopo la rimettevo. Però, come tutto quanto, esercizio aiuta a fare le cose, qualsiasi cosa fai. Più ripeti e meglio ti diventa, no? Anche se devi imparare una poesia. Più ripeti e meglio ti entra nella testa. Più la ripeti a voce alta, più riesci a ricordartela. E io ho cominciato a fare così con me, senza fare un piano preciso. Era d'instinto, però adesso lo posso raccontare che mi ha aiutato tanto. Quello sì. Mano a mano prolungavo i tempi, eccetera. E' arrivato un momento che proprio non me ne importava più quello che quella persona magari mi guardava, quell'altro spifferava. E nel frattempo io, durante il lockdown, mi sono iscritta al social per passare tempo. Dopo tanti mesi, dopo tanti mesi, ho cominciato a fare qualche video. E ho visto che le persone reagivano senza pensare. Non è che io mi sono proiettata di andare sul social. Certo, certo. Era una cosa molto più fluida. Però io già uscivo senza nascondermi. Mi sono accettata. E ho cominciato a parlare del mio percorso. Quanto secondo te è importante, anche nel contesto familiare, abbiamo parlato nella prima parte anche dei tuoi figli in questo caso, però anche del tuo compagno, per esempio, avere attorno a te un ambiente familiare che accolge questa cosa, quella particolarità che può succedere. Quello aiuta molto, sì. Il mio compagno dall'inizio era lui che mi diceva, guarda, sei più affascinante. Queste erano le prime parole. E io che piangevo e dicevo, ma questo che cosa mi sta dicendo adesso, eccetera. Perché se tu non ti ami, ti vedi proprio brutta. E quindi, però, sentendo le sue parole, e lui insisteva, dicevo, ma tutto sommato. Cioè, sai che ti dico, non è così male. Cioè, in fondo sono solo capelli. Quindi, sì, ti aiuta. Anche poi dopo reazione di mio figlio, che ha cambiato idea, vedendo me che io ormai uscivo senza nascondermi, eccetera. E quindi ho visto che anche lui era più tranquillo. Quello aiuta. Però, prima devi essere tu a decidere che vuoi cambiare. Perché poi nella famiglia non è sempre così, che tu ritrovi quel compagno che ti dice, stai bella così, quel figlio che riesce a capire e sta dalla tua parte, che non soffre più per te, eccetera. Se non sei per prima tu di persona che decide di essere bella così con me, è molto difficile poi dopo nella famiglia. Sì, ma anche perché puoi trovare anche il compagno che magari non accetta questa... Eh, le persone si lasciano anche per questo motivo. Esatto. Però è importante che la persona che passa quel trauma capisce che... Cioè, anzi, ti dico, devi capire che sei tu la persona più importante della tua vita. Se quel compagno ti lascia, si vergogna per te, vuol dire che in fondo... E' lui che ha paura del quello che dicono gli altri, di essere accettato. Ma dargli un attimo di tempo se... Ti dico così, se non sono rosa non fioriranno. Però tu sei una rosa e fiorirai. Quindi devi essere tu per prima quella che decide di stare bene con te stessa. Che poi piano piano tu vedrai che se tuo compagno non è d'accordo con te, ma vede che sei tu quella che ti accetti, quella che sta bene con te stessa, piano piano cambia anche lui. O figlio, o amica, o ambiente. Proprio cambia ambiente intorno a te. Sei tu la rosa che fiorisce ed intorno a te comincia a fiorire tutto altro. È una conseguenza poi dopo. Perché se la gente ti vede che ti nascondi, piangi, non riesci a uscire, anche se provano all'inizio a aiutarti, ma non sei predisposta tu a accettare aiuto? Perché io penso che se non riuscivo a aiutarmi me stessa, perché questa cosa mi cominciava a pesare, che mi devo nascondere io, se non riuscivo a aiutarmi me stessa, io chiedevo aiuto. Perché a un certo punto serve aiuto di qualcun altro. Magari andavo a fare delle sedute da un psicologo, ma serve. Se è quella via che tu riesci magari aprirti meglio e capire meglio il tuo problema, me venga. Sì, sì, certo, certo. Ogni aiuto può essere comunque fondamentale. E quindi anche del seduto da uno specialista, comunque da uno psicologo, possono aiutare anche ad accettare. Io per altri motivi, che è sempre percorso mio della vita mia, ti posso dire che non stavo più bene con il mio compagno padre del mio figlio. Siccome che loro non hanno un buon rapporto fra di loro, andavo a cercare aiuto per mio figlio da psicologi, eccetera. Però a un certo punto mi sono reso conto che per prima avevo bisogno io. E per un anno tutti i santi lunedì andavo a fare terapia io. E mi ha aiutato un sacco. Ancora avevo capelli, tutto quanto, eccetera. Però per altri motivi della vita io lì dovevo capire io il perché non sto più bene in quel rapporto. Cosa succede nella mia vita? Io pensavo che eravamo una bella famiglia, però ho capito che era tutto apparenza. E quando c'è bisogno, bisogna chiedere aiuto. Se non sai come uscire dalla situazione vuol dire che forse è meglio chiedere a qualcuno più esperto e quindi benvenga. Spesso le persone non non pensano di chiedere aiuto perché anche qui c'è un po' di tabù. Esatto. Però dovrebbe essere nella normalità. Questa parola ci accompagna in tutte le puntate ma anche questa dovrebbe essere nella normalità perché aiuta. Io per esempio ho rischiato la mia vita perché da giovane ho avuto anche pensieri di suicidi perché stavo in una coppia con un uomo che si approfittava di me sia fisicamente sia psicologicamente ed era un inferno e la mia fortuna era che ha dovuto andarsene via lui si è allontanato e io avendo 20 anni non avevo questo pensiero di andare chiedere aiuto eccetera e quindi mi frullavano quelli pensieri brutti che purtroppo magari chi non sa dove sbattere la testa tenta. Può passare appunto all'azione però è un punto di momento che passa nella vita purtroppo ecco perché dico bisogna imparare con quello che ci succede a distinguere prendere diciamo ho una esperienza e così poi dopo capisci che non entri più in quel tunnel quel tunnel e quindi ti aiuta nella vita immagino che non è facile comunque cercare aiuto oggigiorno perché siamo abituati un po' a cavarci da sola io 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 ce la faccio io posso io però importante sottolineare agli altri che c'è via d'uscita che c'è un aiuto dietro di professionisti eccetera eccetera c'è sempre una via d'aiuto io lo dico della mia esperienza perché io non vedevo questo aiuto la mia fortuna era che quella persona si è allontanata così io sono ero più tranquilla non avevo più lui non ero sotto di lui eccetera e quindi me ne sono uscita ma non è facile non è facile anche perché oggigiorno quando si parla per esempio della psicologa di una terapeuta e dici perché non provi a parlare no io non ho problemi sembra una cosa brutta invece invece no invece vede farsi aiutare da una persona che non ti conosce e quindi non ha un parere interessato perché ti conosce perché ti vuole bene ma non devi conoscere quella persona esatto capito devi soltanto analizzare ecco se chi ti deve aiutare è analizzare la tua vita non è che tu vai da una psicologa e c'ha la bacchetta magica pum e ti aiuta così no il lavoro lo fai tu il lavoro fai comunque tu perché la mia terapista comunque era lei che mi magari ha fatto una domanda dopodiché io ho fatto tutto altro il lavoro cioè mi rendevo conto parlando da sola quello che che mi succedeva è un lavoro che devi svolgere su te stessa ma aiuta nella vita infatti per questo dico se non riuscivo uscire da sola ad accettarmi io sicuramente chiedevo aiuto perché mi rendevo conto che andavo dritta in una depressione ben pesante perché è un trauma anche quando ti arriva da chemioterapia è un trauma anzi sul social mi hanno anche attaccato dicendo vabbè alopecia non è la stessa cosa come magari da cancro no è sempre un trauma non importa se ti arriva alopecia o perdi capelli da anzi penso che le donne che si trovano con alopecia dopo chemioterapia lo possono capire ancora meglio è un trauma perché spesso quando perdi i capelli da chemioterapia sai che dopo un tot ti ricrescono perché da maggior parte ricrescono se non ricrescono perché ti arriva alopecia e quindi anche se si tratta di alopecia è sempre bisogna avere il tatto verso le altre persone perché comunque è un trauma quando lo dicevamo prima della registrazione quando uno non passa attraverso le esperienze spesso è molto facile parlare tu ci hai parlato dei social ti sei buttato attualmente in questo mondo durante la pandemia ed è un mondo particolare quello dei social molto fatto comunque immagino che hai conosciuto persone che hanno chiesto aiuto attraverso la tua esperienza ma hai conosciuto i classici definiti leone la tastiera che a cui piace oggi come oggi ha tu dalla tua esperienza che mondo hai trovato lì sui social allora quando all'inizio no quando non non hai tanta visibilità diciamo e io non è che ce l'ho tutta questa visibilità non si sa che però all'inizio non non ti attaccano sono molto ho trovato un mondo molto soft diciamo ok quando cominci a avere un po' più visibilità la gente è gelosa perché magari ha provato per cose diverse essere visibile no essere un'altra Chiara Ferragni eccetera e non riescono perché i giovani pensano tocchi il pulsante e già ce l'hai tutto perché sembra tutto bello così ma anche Chiara Ferragni si è dovuto fare una bella strada non era facile per lei come la vediamo oggi cioè ha fatto un bel lavoro insomma e quindi cominciano ad attaccare quando hai un po' più visibilità tu subentra anche gelosia e divertimento in sé perché perché no tu hai più visibilità allora io ti prendo in giro però io siccome quando stai bene con te stesso attacchi li prendi in modo diverso io mi sono fatta una corazza in senso io accetto punto di vista di altri e va bene così perché ognuno di noi è fatto in modo diverso hai percorso strada diversa eccetera eccetera quello che piace a me non piace a te ed è normale e dico a tutti io posso capire che io non ti piaccio perché magari entravano nelle mie live dicendo sei brutta qua e io li ripetevo allora perché stai qui se io sono brutta e non riesci a guardarmi vai oltre non è un problema per me e allora si rendevano conto che non riescono ad attaccarmi perché di persona ti posso ti posso garantire che nessuno ti sputa in faccia direttamente hanno troppa paura subito da subito infatti chi nelle live ce l'ho anche le persone che mi aiutano a rispondere diciamo cosiddetti moderatori mi rispondono loro alle domande perché certe volte se sono tante persone va così veloce che io non riesco a leggere tutti perché nelle mie live io leggo proprio i commenti e interagisco con le persone rispondo alle domande ok e entrando vedo magari una spilza di parola pelata pensando che mi offendono e io rispondo sì sono pelata è un dato di fatto bene che vedi bene cioè non hai bisogno di occhiali perché vedi bene sono pelata allora lì rimangono un attimo poi si scusano perché magari subito dietro altre persone anche loro attaccano quelle persone che mi attaccano a me ed è successo che cambiano idea cioè si scusano è un mondo tutto non sai mai chi trovi mi vengono in mente due spunti da questa tua risposta uno è il fatto a volte anche l'ironia che usi sui social io mi ricordo un video in cui tu sei nel reparto pelati e fai un video e questo può essere una chiave importante dell'accertarsi certo perché se ti subentra autoironia riesci prenderti in giro da solo sei sulla buona strada di via d'uscita io nel mio percorso ho visto che ho cominciato anche a scherzare sulla mia pelata spesso dico sono felicemente pelata e quindi scherzando abbassi anche delle barriere davanti gli altri perché vedono che mi prendo in giro da sola sto scherzando e quindi poi dopo anche la gente si diverte e scherza poi bisogna anche vedere fino a che punto gli permetti di scherzare perché lì può passare il limite passano limite sì che mi hanno anche c'è un altro reel di due anni fa ormai che mi hanno chiesto che sei passata per Auschwitz ma disinvolta così proprio lì ho fatto la risposta video risposta perché certe cose non si possono toccare e in quel modo sono subentrata come educazione perché mi sta bene che ridiamo però certi humor neri anche no quindi bisogna sempre il social è un mondo che ti ritrovi tra i momenti che sembra va bene tutto quindi scherzi fai però comunque trovi sempre quelle persone che non sono contente della propria vita non sono contenti di se stessi non sanno cosa vogliono nella vita allora per non essere attaccati loro attaccano subito le altre persone entrano sul social solo per divertirsi per attaccarsi perché non sanno cioè non si rendono conto che stanno male loro e quindi attaccano ma se tu stai sul social sai che questo mondo trovi anche quelle persone che ti attaccheranno ma se stai bene con te stesso tu tu accetti il pensiero degli altri però io vado per la mia strada è difficile fare questi ragionamenti quando poi a volte si toccano dei tasti particolari della propria vita no oggigiorno comunque nel mondo dei social vengono attaccati anche giovani ragazzi sul proprio aspetto ma anche faccia a faccia attraverso il bullismo e tutto attraverso comunque le tue video risposte ma anche attraverso quello che tu ci stai dicendo oggi comunque è un modo anche di reazione di reagire io non so se sui social hai incontrato qualcuno che ti ha raccontato per esempio di una storia sul bullismo per esempio sì ci sono per esempio c'è una ragazza che si è lasciata con un ragazzo perché era molto narcisista lei ha sofferto tanto e anche se per diversi motivi mi ha detto che ha cominciato a seguirmi perché ha capito che lei per prima si deve prendere cura di se stessa quindi anche se io parlo di un tema diverso ma tante ragazze e ragazzi si ritrovano che li toccano perché hanno un'altra situazione ma sono molto simili se possiamo dire così infatti mi segue mi mi chiede anche dei consigli cosa deve fare o questo o quell'altro sì succede come no quanta forza ci vuole perché tipo attraverso le tue live tu ci hai raccontato che a volte ti dicono appunto pelata e tu rispondi quindi e quindi sì sono pelata quindi ci vuole una forza comunque di reazione rispondere a questa domanda è quasi una domanda più forte dell'insulto di quello che loro ritengono un insulto sì perché infatti anche le tante persone che mi seguono sotto magari una presunta offesa mi scrivono commenti dicendo ma come fai essere calma così rispondere a una offesa così io ci andrei più pesante qua là no e io comunque come hai visto io rispondo sempre con il tatto perché educazione secondo me deve essere sul primo posto se stai bene con te stesso scusa se ripeto ma se stai bene con te stesso gli attacchi degli altri a un certo punto non ti toccano perché tu sai su quale strada vai su quale visione hai dove vuoi andare e so perfettamente che vedere una donna senza capelli è una cosa molto nuova molto rara perché non ci si incontra mai che poi come posso dire io rispondo sempre rispetto il tuo pensiero perché siamo diversi e va bene così nel mondo quello che ti piace magari a te piace una cosa bianca a me nera perché ci mettiamo a litigare perché tu mi insulti che a me piace una cosa sassonero per dire è senza senso per me perché io lo so che mi piace quella cosa e io vado a prendere quella cosa quindi io ringrazio quella persona però io comunque vado per la mia strada io non la vedo non faccio tanto sforzo perché il mio pensiero proprio è questo cioè ormai è mio ho imparato di essere diversa ormai perché non mi sono fatta la corazza fino lì io accetto che tu che tu hai un pensiero talmente diverso dal mio perché siamo diversi tu hai vissuto una vita diversa io un'altra vita ma poi spesso anche dico ma se succede a te o alla tua mamma o alla tua sorella o tua migliore amica amico e lì cose cambiano perché la gente non pensa queste cose cioè non non gli entra nella testa che può succedere nell'ambito nel no nel suo giardino non hanno questa percezione vedono una cosa sul social allora si può deridere e poi magari succede anche una cosa peggiore e allora capiscono e quindi io mi sono fatta la corazza non le offese mi mi scivolano insomma quando arrivi a quel punto che stai bene c'hai una pace dentro di te non ti arrivano offese a me arrivano punti di vista e quindi riesco con santa calma ed educazione rispondere all'altra persona tu ci hai parlato appunto di un approccio di vita appunto quindi totalmente diverso anche attraverso i social no ma proprio nella vita di tutti i giorni comunque è è sì complicato accettare alcune cose no sì ma dall'altra parte è necessario farlo un po' per anche tutelarsi e continuare a vivere quantomeno no non ce ne hai ancora parlato ma mi piacerebbe appunto affrontare su questo argomento no su un'altra malattia che hai avuto ce ne vuoi parlare sì diciamo che mi sono arrivate contemporaneamente tutte e due insieme ok io a età di 40 anni ho deciso di lasciare io dopo infatti seguito di psicologa il mio compagno ho preso mio figlio e sono andata a vivere in affitto e lì diciamo ho stravolto completamente la mia vita ho cominciato la vita letteralmente a 40 anni da zero perché avevo due valigie e ho dovuto comprare tutto cucchiaini praticamente tutto da 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 e già lasciarsi è è un peso cioè comunque finisce una coppia io ci credevo nella famiglia eccetera quindi già lì ero molto nervosa molto depressa se posso dire ok purtroppo pensando come posso fare di cominciare la vita insieme ho perso mio fratello io avevo 36 anni lui 37 da un giorno altro mi è arrivata alla botta certo e lì cambi lì capisci che quella situazione non è tua quel vivere insieme ormai non è una famiglia eccetera e quindi io ho dovuto fare tanto lavoro per riuscirci di andare a vivere da sola e quindi mi ha costato molto stress più anche la morte di mio fratello era cililligine e quindi con tempo ho cominciato a sentire che il mio corpo aveva dei problemi aveva tanti dolori eccetera cadevo sempre in varie malattie poi si scopriva che malattie non erano eccetera e non capivo cosa succedeva quando già ho cominciato a vivere da sola con mio figlio mi sono spaventata perché ho sentito sul collo delle bozzette e lì mi sono spaventata ho cominciato a fare tutti gli accertamenti e dopo un anno ma anche di più ho scoperto che ho fibromialgia e scoprendo che ho fibromialgia dopo un po' ho cominciato anche a perdere i capelli erano tutte e due malattie fibromialgia è arrivata un po' prima perché adesso capendo com'è so quanto soffrivo prima e già quello mi riconosco che era fibromialgia però non lo so se fibromialgia poi dopo ha dato conseguenza anche di alopecia perché sul social ci sono persone che quando capiscono che ho fibromialgia parlano con me e mi dicono che perdono capelli anche loro non come me però anche loro sono probabilmente il mio fisico è più predisposto e quindi è un'altra bestia da io la chiamo bestia perché alopecia non è niente a confronto di questa malattia è molto molto pesante ti cambia completamente anche questa la vita ci spieghi un pochettino cosa comporta questa malattia allora innanzitutto in altri paesi è riconosciuta come invalida in Italia ancora no però siamo moderni non italiani è riconosciuta solo in due regioni al nord fibromialgia tutto il resto di Italia purtroppo no ma capisco perfettamente adesso dopo qualche anno che cello a questa malattia cosa vuol dire che è riconosciuta invalida perché quando ti arriva in un certo punto molto più acuta io sono stata nel letto proprio chiudata dentro il letto che non riesci a muovere cioè dal dolore è difficile da spiegare ma dal dolore dei dei del mani della pelle ci sono giornate che io non riesco nemmeno a vestirmi perché mi fa male la pelle e ci sono momenti che non riesci a alzarti perché hai malessere di tutto il tuo fisico le ossa articolazioni muscoli tutto insieme mal di testa ci sono persone che devono essere chiusi al buio perché gli dà fastidio la luce io mi rendo conto che con tempo mi dà fastidio tanto anche il rumore stai magari al mare tranquillo senti i bambini che cominciano a strillare a giocare ma giocano dopo due ore io ho una soia che comincio a capire che mi stanco non mi sposto me ne vado no però mi rendo conto che quel rumore mi stanca e mi stanca mentalmente alla fine ti ritrovi che sei stanco costantemente mentalmente e fisicamente vai a dormire ma non riesci a dormire perché hai dolori infatti all'inizio il dottore che mi ha scoperto fibromialgia devi sapere che fibromialgia è curata con psicofarmaci perché quel psicofarmaci se trovi quello giusto ti fa passare dolori ma ci sono effetti collaterali insomma perché infatti lui mi chiedeva ma signora lei è depressa? si presume che persone di fibromialgia sono depresse ma non è la depressione è stanchezza del fisico del dolore è irritazione del tuo fisico a rispondere sempre al dolore perché non non riposi di giorno la stanchezza cronica di continuo con questi dolori magari tante persone devono lavorare io ho dovuto smettere di lavorare per fortuna ho il mio compagno ma se ero da sola non lo so come facevo perché non è riconosciuta e quindi ti ritrovi in un corpo che non riconosci di nuovo oltre all'opecia che non riconosci ti arriva anche questa che non ti riconosci perché hai sempre dolori sei scontrosa perché provengono dai dolori capito quindi è tutto ho delle giornate che mi chiudo nella stanza e piango e nessuno lo vede ma io nel mio privato piango perché ho dolori atroci magari dopo mi passano riesco per fortuna io riesco ho una soia del dolore molto alta ma non so per quanto mi rimanerà perché con tempo qui non parliamo un dolore che ti passa dopo un mese qui andiamo agli anni perché quando ti arriva non ti abbandona più fibromialgia capito quindi anche questa è una bella bella bestia sì sì perché di fatto quello che ci hai raccontato tu fino ad adesso è una cosa che sì è difficilissima da accettare come la lopecia quindi non è minimamente nostra intenzione comunque sottovalutarla no perché è una cosa comunque che al di là che ci sono degli standard della società che la società ti impone però è proprio il non sentirsi accettata proprio con se stessa ma lo sai che ti dico quando ti arriva fibromialgia non sei nemmeno accettata e capita dai stessi medici perché ancora non è conosciuta questa malattia e quindi nemmeno loro sanno come curarti io ho preso psicofarmacy per due barra tre anni e li cambiavamo ogni un tot li cambiavamo perché non mi funzionavano più ma ho smesso io dal mio cioè ho deciso io di smettere non faccio più cure tradizionali ho smesso di andare da medico perché mi sono ritrovata con effetti collaterali io vivevo in una bolla che non capivo nemmeno cosa mi dicevi cioè parlavo con mio figlio e non capivo le parole è una cosa che anche lì ti ritrovi un mondo nuovo non ti capisci piangevo di continuo uscivo di casa non sapevo dove dovevo fare la spesa ma sono uscita di casa e non sapevo dove dovevo andare e quindi ti ritrovi e dici no c'è qualcosa che non va anche qui bisogna cercare qualche soluzione mi è arrivata la soluzione da tiktok cioè sembra strano ma facendo già avendo un po' di visibilità e poter fare le live mi sono aiutate per poter arrivare a una ragazza che mi ha dato dei integratori naturali per il momento fino adesso mi funzionano finché funzionano questi io vado avanti certo poi il fisico non è detto che non si abitua a si parla di ganoderma se mi si abitua a di ganoderma cercherò un altro rimedio naturale quindi vai non sai mai quello che ti succede cioè vai giorno dopo giorno vivi giornata però appunto la mia domanda è questa a volte noi proprio perché la società ti impone alcuni standard ci soffermiamo su quella difficoltà estetica tu puoi dire che attraverso la tua esperienza che ci può essere qualcosa di peggiore rispetto all'allopecia sì e quindi ogni persona sta affrontando nella propria vita il proprio il proprio mostro la propria bestia no però non sempre quella bestia estetica cioè c'è sempre peggio rispetto a quello che a volte stiamo affrontando che ribadisco a volte sembra una bestia gigante da affrontare sì cercare di abbatterlo pezzo dopo pezzo giorno dopo giorno è la soluzione forse che ci che ci fa andare avanti ma se allora diciamo che i social oggi come oggi come le vedo io possono essere anche aiuto a tante altre persone sì perché se io racconto la mia storia che mi sono successe tante cose anche estetiche e e lo superate perché come ho ripetuto varie volte hai sempre una via d'uscita ok io per alopecia potevo anche mettere una parruca ok ma non era per me cioè non era una una via d'uscita per me quindi ho scelto piuttosto accettarmi che mettere la parruca e vedo sul social le donne che magari vedendo me mi dicono io dopo tanti anni che ho portato la parruca vedo te e ho deciso di fare la stessa cosa butto via la parruca e quindi comunque anche se parliamo di fibromialgia che si parla sempre troppo poco sul social se io racconto la mia storia può essere sempre presa anche nel modo buono per altre persone quindi più parli e più la gente magari magari io posso arrivare a una persona che si sveglia dice ma se ce l'ha fatta lei abbiamo problemi più o meno simili ce la posso fare pure io e magari in quel momento si sveglia e comincia a fare percorso diverso da quello che ha fatto perché ha visto che fino adesso non ha avuto miglioramenti e magari prende spunto da un mio video o quello che sia sembra strano ma anche social con il social puoi arrivare anche in quel modo alla gente io diciamo che i social sono anche fatti per condivisione quindi è un po' complicato questa nuova generazione sui social non parlo nuova generazione a livello di età perché anche anche le persone di una certa età avvolgono sui social senza sensibilità ma vanno proprio a muso duro però questo nuovo uso sui social io mi ricordo all'epoca di facebook i social erano più un ridurre le distanze invece di mandare la classica lettera io se c'è un amico non lo so a milano allora scrivo sui social è più tempestivo adesso c'è un uso totalmente diverso rispetto a questo però se si usa con quell'approccio di condivisione e insieme cerchiamo di fare un pezzo di strada insieme cerchiamo di andare avanti e abbattere insieme quel mostro quella bestia esatto è già un uso totalmente diverso dei social sì infatti i social possono essere anche un aiuto perché io facendo video reel eccetera ci penso sempre che sì mi vedranno tutti i miei follower però arrivo anche sempre a un pubblico nuovo tante volte mi dicono per esempio su Instagram spesso mi dicono come posso dire parli sempre di quello e basta che noia parli sempre di capelli però io poi dopo ho risposto anche su questo con un video dicendo io capisco che a te magari annoia però io posso arrivare sempre a un pubblico nuovo io parlo di questo perché questa è la mia vita non ti posso parlare dei balletti che faccio dietro camera cioè parlo di questo perché è questo tratto sul social e quindi ovvio che parlerò di di capelli ma se a te non ti piace basta fare con dittino vai vedere altre cose se non ti interessa dopo algoritmo se ti soffermi più sul balletti algoritmo ti manda altri video e non mi vedi più e va bene così perché magari ci sono persone che magari mi hanno visto due tre volte e poi sono andate oltre ma ci sono le persone che magari riesco arrivare a loro cioè e poi dopo cambiano perché anche mi incontrano per strada e mi raccontano che grazie al video perché anche mio compagno gli chiede ma come mai la segui perché a lui sembra strano essere sul social che siamo due mondi diversi io sul social lui no e quelle persone dicono guarda che lei ci dà tanta forza per lui è una cosa normale invece non dobbiamo dare per scontato niente è normale e niente dare per scontato perché magari io a cente persone non arrivo magari non sapendo arrivo a quella persona lì che serviva in quel momento quella frase lì perché mi ringraziano anche in privato che mi sono anche emozionata delle bellissime parole perché lì sono entrata anche se hanno problemi molto più più piccoli però per loro sono grandi enormi e sono riuscita a entrare e cambiano idea cambiano cioè cambiano vita capito quindi è un bene quando tu a quella domanda che fa il tuo compagno è perché la segui ricevi certe risposte no oppure magari sui social ricevi messaggi di ringraziamento no cosa ti arriva a te che emozioni provi tanto amore si vede che sono riuscita ad arrivare per quello che voglio io per passare il messaggio mio di non soffermarsi alle difficoltà nella vita ma fare passo dietro guardare bene quella difficoltà farsi amico questa difficoltà accettare quel nemico che non vuol dire arrendersi perché le persone magari certe volte è successo dice ma così ti arrendi no tu non ti devi arrendere tu devi fare quadro del tuo problema quando lo fai tuo nemico lo fai un po' più amico capisci anche come potresti avere via d'uscita cioè alla fine magari capisci che devi chiedere aiuto allora chiedi aiuto ma puoi capire che puoi fare anche da solo che magari non vedevi quella via d'uscita ma riesci mi arriva tanto amore quando mi fermano le persone quello sì come se senti l'obiettivo sì ed è bellissimo infatti la gente dice sì non ti fermare vai avanti perché io a un certo punto ho detto va bene perché c'era un momento che magari erano più quelle che mi volevano offendere cattivi che quelli buoni allora dicevo ma magari quello che ho potuto fare ho fatto magari è ora di smettere invece poi dopo mi è arrivata valanga di persone che mi dicono no no tu non ti magari mi hanno incontrato di persona e mi dicono guarda non smettere che fai bene al cuore tante persone scrivono sei il raggio di sole nelle mie giornate quando mi alzo vado a vedere il tuo buongiorno o almeno sentire la tua voce perché mi tranquillizza c'erano ragazzi giovani durante le live che ascoltavano la live che io parlavo con gli altri loro solo ascoltando la voce mia che parlavo con gli altri facevano i compiti perché rilassava la voce quindi mi arriva di tutto ma in principale proprio sento l'amore verso di me che sono convinta che faccio cioè vado sulla buona strada quella giusta e noi siamo convinti di questo anche perché anche io ti seguo sui social quindi è una cosa che apprezzo tanto allora io ti devo lasciare giustamente la tua vita quindi potremmo stare qui a parlare io posso anche stare potremmo stare qui a parlare tranquillamente ore e ore però io per concludere ti volevo fare una domanda che a me sta particolarmente a cuore alla luce della tua esperienza quindi abbiamo toccato tanti punti abbiamo siamo praticamente siamo pastite dall'adolescenza fino ad arrivare ad oggi tra entrambe le parti le puntate quindi attraverso appunto tutta la tua esperienza tutto quello che ci hai raccontato qual è il messaggio che vuoi lasciare ai giovani che ascoltano questo podcast allora io mi rivolgo a te che mi ascolti e ti rispondo questa domanda prima capisci di accettarti così come sei o sei grassa o sei sulla sedia a rotelle o sei senza capelli come me qualsiasi cosa ti succede prima il tuo nemico guardalo dalla distanza parlo amico e comincia ad accettare te stessa te stesso perché quando accetti e ti ami te stesso te sa ti arriva una pace dentro di te che poi dopo riesci ad andare molto meglio nella tua vita io purtroppo l'ho capito abbastanza tardi che non è mai tardi meglio tardi che mai come dico io dopo 40 anni io ho capito questa questa cosa avendo più di 40 anni se certe volte mi soffermo e penso se questa cosa qualcuno in qualche modo provava a farmi capire magari quando avevo 20 anni che passavo quel brutto momento eccetera la mia vita poteva andare anche diversamente perché prima lo capisci di intorno di te cioè intorno a te cambia la vita non solo cambi tu ma cominci a cambiare anche i tuoi familiari magari in famiglia la gente potrebbe marito sorella altre persone della famiglia potrebbero vergognarsi di te perché sei pelata e hai deciso di uscire pelata magari stanno in più disagio loro ma se cambi tu e stai bene con calma cambia anche vita per via alopecia perché altri non accettano si vergognavano stare vicino persone pelate però secondo me la prima cosa se loro si accettano stanno bene con se stessi magicamente dintorno a te cambia tutto sì quelle persone che non sono giuste per te vanno via da sole e lasciagli andare non servono se non sono rimaste vuol dire che non servono per te ti sono servite fino a quel punto per la tua esperienza perché ognuno di noi da quando nasce fino a quando se ne va fa un'esperienza di vita ognuno di noi ha vita diversa la percepisce in modo diverso ognuno ha i concetti diversi i modi di pensare diversi e per questo ognuno di noi è unico ma per prima bisogna capire cosa vogliamo noi ma quando stai bene lo riesci a capire molto meglio io adesso per esempio vorrei molto entrare tra i giovani e parlare di alopecia perché si parla molto poco o di fibromialgia perché anche di questa cioè in generale dei problemi si parla poco e secondo me se i giovani sanno certe malattie prima quando ti succede lo prendi diverso lo affronti diverso ma il punto focale amati così come sei perché sei bellissima così come sei non fa niente che hai cellulite o sei grassa o magari troppo magra il tuo problema poi dopo lo risolvi ma ama te stessa te stesso che i problemi poi dopo si risolvono penso sia la conclusione migliore perché a volte aggiungere altre parole sono superfule però è molto importante quello che ci hai detto oggi perché di base comunque amarsi e affrontare appunto un problema che ti può arrivare in maniera diversa con un approccio diverso rispetto a buttarsi giù è comunque importante se ci sono persone come hai detto tu in maniera molto intelligente e precisa e ci sono persone che magari si allontanano e perché evidentemente non dovevano far parte della tua vita esatto quindi magari da quel problema puoi davvero trovare le persone che davvero ti vogliono bene sì perché se apri gli occhi d'intorno a ognuno di noi ci sono le persone che ti vogliono bene magari non li vedevi prima ti sei concentrato concentrata su quelle che ti piacevano più a te ma poi dopo quelle sono sparite ti hanno fatto male e poi dopo ti accorgi che comunque abbiamo le persone vicino a noi e magari trovi nuovo nuovo amore perché si può cioè spunta fuori veramente quell'uomo che tu aspetti tutta la vita anche se sei pelata e trovi un amico nuovo e un'amica nuova io ho fatto anche amicizie grazie a social e ci sentiamo anche tutti i giorni ci smesseggiamo eccetera quindi il mondo è bello perché è vario bisogna capire noi anche quello che vogliamo se un qualcosa non va impara la lezione però vai per la tua strada e continua ad amarti non mollare vai avanti e continua ad amarti sì e sempre 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 continua ad amarti te stesso stessa che è quella la cosa più importante secondo me nella vita allora mio c'è io ti ringrazio grazie a te per essere stata qui con noi è stato un bel viaggio sì è stato davvero un piacere condividere questo viaggio insieme a te grazie perché non è facile aprirsi ancora aperto come hai fatto tu però è stato davvero interessante e credo che abbia fatto del bene agli ascoltatori vi ringrazio per il vostro invito grazie ancora grazie mille per il resto io vi ringrazio per aver ascoltato i nostri contenuti vi invito anche a seguire le puntate precedenti e quelle che verranno sulle nostre principali piattaforme su youtube in audio e in video cercando Hop Media Italia mentre sulle nostre principali piattaforme audio quindi su spotify apple podcast e google podcast puoi trovare le puntate cercando appunto social light podcast inoltre vi invito anche a seguire la nostra pagina instagram cercando social light podcast perché questo è il modo anche per interagire insieme perché vi possiamo incuriosire attraverso delle stories e dei video sulle puntate che viviamo come sempre ogni mercoledì alle ore 20 quindi io vi ringrazio per essere con noi e vi auguro una buona sera e vi auguro